Strade sicure, da fine marzo i militari entreranno in servizio anche sul pubblico passeggio. Dal novembre scorso sono presenti nella zona della stazione, scuole e dal Consiglio Comunale, via libera ai nuovi istituti comprensivi. Cerimonia di apertura dell'anno accademico all'Università Cattolica, lezio dell'imprenditore Brunello Cucinelli. Coltivate anche l'intelligenza dell'anima, ha detto. Applausi degli studenti. Viabilità sono iniziati questa mattina ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Boselli, via Martiri e via Damiani. Mercoledì arriva al dosso in via Corneliana. Alla diga del Molato è partito il collaudo funzionale, una procedura controllata che permetterà al Consorzio di Bonifica di aumentare la capacità dell'invaso di circa 450.000 metri cubi. Il Piacenza batte il Crema con una rete di Recino e vola in vetta alla classifica. Domani il Fiorenzuola in campo a Vicenza per il recupero di Serie C. Stasera alle 20.30 su Tele Libertà torna Zona Calcio. Tutte le notizie sono a disposizione sul sito liberta.it.